Chiara Puosi della società gitarstica Motto Class 2008 si è laureata campionista italiana a 4 a Rimini. Ha combattuto con coraggio e determinazione soffrendo una gara iniziata con due errori assai importanti a cravette. È riuscita a fare gli altri tre attrezzi increscendo di forza e concentrazione guadagnati i tre migliori punteggi della gara 15-450 a nastro, 16-200 a cerchio, 17-800 in finale a palla. Vittoria Pratelli ha avuto un'intoppo importante, rottura della bacchetta del nastro con sostituzione dell'attrezzo proprio prima di entrare in pedana. Gara difficilissima per lei, nella categoria 1 le piccolissime si sono messe in evidenza Melissa Musacci che ha vinto l'argento alla specialità corpo libero e Sveva Raffanelli classificatesi ottava e nona. Per Chiara Puosi è stata una finale al Cardiopalma, passava per l'ultima cleta e fino alla finale era in seconda posizione. Il coefficiente di difficoltà della sua palla era molto alto, fuori campo visivo su rotazione rendeva l'attenzione alle stelle perché da quell'attrezzo dipendeva la gara. Le sue avversarie non avevano fatto alcun errore quindi se lei avesse perduto l'attrezzo sarebbe terminata la gara. Chiara ha avuto un gran carattere e determinazione con 9200 di difficoltà ha fatto una palla impeccabile strabiliando la giuria che ha assegnato a lei la vittoria meritatamente.